La scena di apertura presenta il divoratore di pianeti Unicron che attacca il pianeta natale dei Maximals, una razza avanzata di Transformers. Unicron invia i suoi servi chiamati Terrorcons, guidati da Scoog, al fine di recuperare la chiave di transcurvatura che può aprire portali attraverso lo spazio e il tempo e può aiutarli a consumare i pianeti più velocemente. Non appena atterrano sul pianeta Bersaglio, vengono affrontati dai Maximal, Appelink, Primal, AiraZor, Rinox e Ketor. Dopo aver combattuto alcuni Terrorcons, i Maximal si rendono conto che non sono abbastanza forti per sconfiggerli. Di conseguenza, Appelink ordina agli altri Maximal di fuggire dal pianeta con la chiave di transcurvatura, mentre lui decide di restare indietro e sacrificarsi per guadagnare un po' di tempo. Dopo questo, i Maximal, ora sotto il comando di Primal, fuggono sulla Terra mentre Appelink viene ucciso. La scena poi si sposta nel 1994 a Brooklyn, dove ci viene presentato un ex militare esperto di elettronica, Noah Diaz, che vive con sua madre Breanna e il fratellino Chris. Si scopre che Chris offre di una malattia, a causa della quale la famiglia fatica a pagare le sue medicine. Noah partecipa a diversi colloqui di lavoro, ma ogni volta viene rifiutato a causa della sua cattiva referenza dal lavoro precedente. Un giorno confida il suo problema al suo amico Rick, e gli chiede aiuto. In risposta a quest'ultimo gli propone di rubare una Porsche che viene tenuta nel garage di un'azienda, in modo che possa venderla. Ascoltando il suo consiglio, Noah riesce a intrufolarsi nei locali dell'azienda e si dirige verso il veicolo preso di mira. Dall'altra parte, una stagista del museo di nome Elena Wallace trova una peculiare e antica statua di un falco recante il simbolo dei Maximal. Il suo capo sostiene che provenga dall'antico Egitto, ma Elena non le crede. Di conseguenza, decide di svolgere da sola una ricerca segreta. Usa un dispositivo per guardare ulteriormente nella statuetta, ma la rompe accidentalmente rivelando la chiave di transcurvatura nascosta all'interno. La chiave rilascia immediatamente un impulso di energia che viene rilevato dal leader degli autobot, Optimus Prime. Evoca quindi gli altri autobot, inclusi Archie, Bumblebee e Mirage. Qui viene rivelato che Mirage è nella versione camuffata dello stesso veicolo in cui Noah sta cercando di entrare. Proprio in quel momento una guardia di sicurezza cattura Noah, il che spinge Mirage a iniziare a scappare. Il ragazzo rimane completamente scioccato, e non riesce a comprendere cosa stia succedendo. Subito dopo vengono inseguiti dalla polizia, causando un intenso inseguimento attraverso la città. A un certo punto la polizia si avvicina, ma Mirage usa i suoi poteri di illusione per scappare. Porta quindi Noah in un edificio abbandonato e si trasforma nella sua forma autobot, cosa che spaventa il ragazzo. Subito dopo, Optimus e Archie si uniscono a loro in questo punto d'incontro, ma non sono contenti di vedere un essere umano lì. Nonostante questo, decidono di occuparsi di Noah più tardi, in modo che possano dare la priorità al recupero della chiave. Si scopre che è l'unico modo che hanno per tornare nel loro mondo natale, Cybertron. Per fare questo hanno però bisogno dell'aiuto dell'uomo, perché è impossibile per loro entrare nel museo. Di conseguenza, si rivolgono a Noah, che inizialmente esita. Per convincerlo Mirage mostra la sua capacità di assumere la forma di qualsiasi auto che vuole vendere, e promette di permettere a Noah di venderlo prima che si separino. Con questa assicurazione, Noah accompagna gli autobot al museo. Sulla strada, Mirage racconta una triste storia sugli autobot, dicendo che sono rimasti bloccati sulla Terra per migliaia di anni solo perché credevano che la chiave di transcurvatura fosse andata perduta. Ora la loro speranza è ritornata ancora una volta, e non vedono l'ora che ciò accada per poter finalmente tornare a casa. Mentre si avvicinano al museo, Mirage assume la forma di un camion della spazzatura e riesce ad entrare all'interno. In seguito, Noah si intrufola nel museo e spaventa Elena, che pensa sia un intruso. Lei cerca di scappare, ma lui riesce a calmarla. Spiega poi che la chiave appartiene a esseri extraterrestri, ma lei ovviamente non gli crede. Nel frattempo, i Terrorcons, attratti dal segnale della chiave, arrivano sulla Terra e lanciano un attacco immediato agli Autobot fuori dal museo. Il loro attacco fa esplodere una parte del muro dell'edificio, facendo finalmente credere ad Elena che Noah abbia ragione. Scugin via poi il suo animale domestico simile a un ragno per recuperare la chiave, mentre lui e i suoi compagni Terrorcons combattono gli Autobot. Essi sembrano essere troppo potenti, poiché gli Autobot non sono chiaramente in grado di eguagliare la loro forza. Nonostante questo fanno del loro meglio per guadagnare tempo affinché Noah ed Elena scappino con la chiave. Purtroppo, Bumblebee viene impalato e ucciso nel processo. Scug si avvicina poi agli umani e prende loro la chiave di transcurvatura, ma prima che i Terrorcons finiscano il resto degli Autobot a Irazzor piomba in loro soccorso. Vedendo questo, Scug ordina al suo gruppo di ritirarsi, poiché hanno già ottenuto ciò di cui hanno bisogno. In seguito, Irazzor si presenta come uno dei Maximal, che si sono nascosti sulla Terra da millenni. Afferma che hanno ancora la possibilità di salvare i loro mondi, perché ciò che Scug ha recuperato in precedenza è solo metà della chiave di transcurvatura. La chiave era stata divisa in due per garantire una doppia sicurezza, ma non sa dove sia nascosta l'altra metà. In risposta Elena si fa avanti, affermando che secondo lei potrebbe essere nascosta in un tempio in Peru in base a una sua ricerca approfondita. Irazzor le chiede di condurli lì, cosa che lei accetta. Prima di partire per il Peru, Noah torna a casa per vedere Chris. Durante questo, Mirage si presenta e rende evidente la sua presenza. Noah finge che siano amici di lavoro, ma il ragazzo è abbastanza intelligente da percepire qualcosa che non va. Di conseguenza, spiega l'intero scenario a Chris, inclusa la sua missione per recuperare la chiave dal Peru. Dopo aver compreso la posta in gioco, Chris fa promettere a Mirage che manterrà suo fratello al sicuro. La mattina seguente la banda incontra Stratosphere, un autobot che si trasforma in un vecchio aereo traballante e li porta tutti in Peru. Sulla strada Noah dice ad Elena che dovrebbero distruggere la chiave, citando che il mondo sarà automaticamente salvato senza di essa. Sentendo questo lei esprime la sua preoccupazione per gli autobot poiché rimarranno bloccati sulla Terra per sempre, ma lui insiste nel dare la priorità alla Terra. All'atterraggio in Peru vengono ricevuti da un altro autobot, Wiljek, che li conduce al tempio. Mentre si avvicinano alla loro posizione devono affrontare un problema, perché l'intera città è chiusa a causa di un enorme festival in corso. Dato che gli autobot non possono passare in mezzo alla folla, Noah ed Elena si offrono volontari per andare avanti. Intendono confondersi con il corteo e dirigersi verso il tempio dall'altro lato. Prima di partire, Mirage equipaggia Noah con un dispositivo da polso per l'autodifesa. Dopodiché si muovono rapidamente tra la folla e presto arrivano a destinazione. Là, Elena riconosce i simboli dei Transformer e li allinea nella stessa direzione. Questo sblocca una porta, rivelando una caverna sotterranea. I due poi iniziano a entrare lentamente, ma intanto i Terrorcons sembrano averli rintracciati di nuovo. Scugin via quindi il suo animale domestico a inseguire i due umani e recuperare la chiave. Poco dopo, Noah ed Elena si imbattono in una cripta dove dovrebbe esserci la chiave. Tuttavia, sono scioccati nello scoprire che è vuota. Nonostante questo trovano alcune iscrizioni, che Elena annota prima di partire. Proprio in quel momento subiscono un'imboscata da parte dell'animale domestico di Scug, spingendoli a correre. Sentendo che qualcosa non va gli Autobot si precipitano ad aiutare, ma vengono inseguiti dai Terrorcons. Infuriato, Optimus giura vendetta per Bumblebee combattendo Scug, mentre gli altri due Terrorcons, Battletrap e Nightbird, inseguono Mirage e Wiljack. Subito dopo, Airazor si unisce a Optimus per aiutarlo, ma subisce un grave attacco da Scug. Questo pone fine all'inseguimento, poiché gli Autobot e Airazor riescono a scappare per un pelo. Allo stesso tempo, Noah ed Elena escono dalla caverna dopo aver abbattuto il nemico grazie al dispositivo al polso. I due finiscono poi in una giungla, dove si confrontano con Primal e degli altri Maximals. Gli Autobot si presentano per difendere gli umani, creando una situazione di stallo tra le due parti. Fortunatamente, prima che il combattimento possa iniziare, Airazor arriva e dice a Primal che sono alleati. È a questo punto che Primal rivela che ha spostato l'altra metà della chiave per tenerla al sicuro. Successivamente i Maximals portano tutti in un villaggio che ospita una tribù umana, con la quale vivono da millenni. Primal mostra poi a Optimus un Energon grezzo che può essere utilizzato per far rivivere Bumblebee, ma richiede una grande ondata di energia. Intanto, Elena dice a Noah che non dovrebbero distruggere la chiave. Lo paragona Optimus, siccome entrambi si stanno assumendo la responsabilità di salvare i rispettivi mondi natali. La mattina dopo Elena si sveglia a causa di uno strano rumore, e trova Airazor completamente corrotto dall'energia oscura che Scugi ha inflitto durante la battaglia precedente. Comincia poi ad attaccare il suo stesso gruppo, mentre gli altri Maximals cercano di sottometterlo. A un certo punto ordina Primal di ucciderla, perché non è più in grado di controllarsi. Senza altra scelta Primal disattiva con riluttanza il suo sistema, provocando alla fine la sua morte. Successivamente, Primal affida la chiave di transcurvatura a Noah, esortando lui ed Elena a scappare. Tuttavia, prima che possano farlo, subiscono un'imboscata da parte dei Terrorcons. Nello scontro che segue Noah pensa di distruggere la chiave con il suo dispositivo da polso, ma Optimus lo supplica di non farlo perché ritiene che sia l'unico modo che hanno per tornare a casa. Noah ci pensa un po', e alla fine è d'accordo. In quel momento Scugi appare dal nulla e ruba la chiave. Ricompone poi le due metà, e dirige una torre sopra un vulcano per evocare Unicron. Usando la chiave procedono ad aprire un portale sopra la Terra, che Unicron attraverserà presto. Tornati al villaggio Optimus e Noah si rendono conto del loro errore, ovvero stavano combattendo per sé stessi piuttosto che lavorare come una squadra. Dopodiché, Primal sottolinea la necessità di un codice per disattivare la chiave e chiudere il portale. In risposta, Elena afferma di avere il codice che ha scoperto durante la sua ricerca. Successivamente gli Autobot e i Maximal scelgono di ingaggiare l'esercito Terrorcon in battaglia, mentre Noah ed Elena pianificano di intrufolarsi nell'antenna centrale e disattivare la chiave. Ora, con rinnovata determinazione e coraggio, i nostri eroi si lanciano in battaglia. Vedendo il loro arrivo Scud schiera il suo esercito Terrorcon se e uno sciame di scorpioni meccanici per ostacolarli. Come pianificato Optimus e Primal guidano la squadra contro l'orda di nemici in arrivo, mentre Mirage aiuta Noah ed Elena a trovare un punto di ingresso all'antenna centrale. Segue quindi un'intensa battaglia, ma con il passare dei secondi Unicron si avvicina alla Terra. Durante lo scontro uno contro uno con Mirage, Scud scopre Noah e lo trascina fuori dal tunnel, lasciando la responsabilità ad Elena. Tenta quindi di uccidere il ragazzo, ma Mirage usa il suo corpo per proteggerlo mantenendo la sua promessa. Mirage trasforma quindi il suo corpo danneggiato in una tuta potenziata per Noah, permettendogli di continuare a combattere con essa. Alla fine le onde di energia generate dalla chiave caricano l'energia nella valle, riportando in vita Bumblebee. Entra quindi prontamente nel campo di battaglia e aiuta gli Autobot e i Maximals a cambiare la situazione. La prima cosa che fa è abbattere Nightbear facendolo a pezzi, e poi va a cacciare gli altri. Nel frattempo Noah lotta per combattere Scud da solo, finché Optimus non arriva in suo sostegno. I due poi uniscono le forze e prendono il sopravvento contro il cattivo. Altrove, Elena raggiunge l'antenna centrale e procede all'inserimento del codice, ma prima che possa farlo Scud rapidamente fa saltare il sistema di controllo, vanificando il suo tentativo di chiudere il portale. Questo fa infuriare Optimus così tanto che smembra Scud prima di strappargli la testa. In seguito decide coraggiosamente di rischiare la vita e distruggere la chiave, pur essendo consapevole delle sue conseguenze. Mentre lo fa si verifica una massiccia esplosione, che forma un vortice che inizia a trascinare dentro tutto. Anche Optimus è attratto all'interno, ma Noah e Primal riescono a trattenerlo appena in tempo. Il vortice assorbe quindi tutto il rimanente esercito dei Terrorcons, e lascia Unicron bloccato fuori dalla terra. Ora che la minaccia è stata finalmente neutralizzata, il gruppo festeggia la vittoria. In seguito, gli Autobot, che ora non sono in grado di tornare su Cybertron, proclamano la terra come loro nuova casa e giurano di continuare a proteggerla insieme ai Maximals e ai loro alleati umani. Pochi giorni dopo Noah va a fare un altro colloquio di lavoro, dove vede la notizia di Elena che ha ricevuto un riconoscimento per la scoperta del Tempio in Perù. All'interno della stanza delle interviste incontra un agente di nome Burke, che sembra ben consapevole del fatto che Noah sia stato in Perù e abbia lavorato con i Transformers. L'agente estende quindi un'offerta a Noah di unirsi a un'organizzazione segreta chiamata G.I. Joe, garantendo anche che le spese mediche di Chris saranno coperte. Noah gli è molto grato per questo e lo ringrazia con tutto il cuore. Dopo l'intervista, osserva Burke entrare in una stanza segreta piena di veicoli avanzati, gadget e oggetti top secret. In una scena a metà dei titoli di coda si vede Noah riparare Mirage usando pezzi di ricambio di una Porsche, quando Ricky fa visita. Afferma che è una totale perdita di tempo, ma Noah gli dimostra che si sbaglia chiedendo a Mirage di trasformarsi davanti al suo amico. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.